Da qualche settimana girano voci su una possibile sostituzione alla conduzione di pomeriggio 5. Sembra infatti che, dati gli ascolti altalenanti, anche Mirta Merlino abbia vita breve. Secondo il settimanale oggi questo cambio di conduzione potrà avvenire da settembre, con Mediaset che sarebbe intenzionata a sostare la conduttrice verso un programma politico su rete 4. Nel pomeriggio invece si vorrebbe inserire un volto già conosciuto alla rete, come Federica Panicucci o Simona Branchetti. Qualche settimana fa era anche circolata l'ipotesi che da metà dicembre a metà gennaio la Merlino sarebbe stata sostituita dalla Branchetti, voce smentita da Mediaset. Ormai è risaputo anche che il regista, Ermanno Corbella, fedelissimo amico della Merlino, è stato sollevato dall'incarico dopo la prima puntata di Messa in Onda. Il motivo non è mai stato del tutto chiarito. Si è parlato anche di litigi tra la conduttrice e due autori. Pure in questo frangente, naturalmente, nessuna conferma dai diretti interessati, ma pare che qualche frizione ci sia stata. Diversi analisti continuano a far notare come ogni giorno la competizione tra Matano e Merlino sia nettamente favorevole al timoniere della vita indiretta, che totalizza ascolti maggiori rispetto a Canale 5 e a volte anche con 7 punti in più di il manager della Merlino, Lucio Presta, che è lo stesso di Barbara D'Urso, qualche giorno fa ha fatto un tweet a proposito, scagliandosi contro D'Agospia, vorrei rasserenare D'Agospia che pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Mirta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggredire. Intervistata dal giornale d'Italia, la Merlino aveva detto di non essere interessata agli ascolti, dato che l'azienda non le ha mai fatto pressing. Una frase di rito visto che è perfettamente al corrente che senza ascolti, in tv, non si va da nessuna parte. Ascolti? Nessuno mi ha mai. L'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C'è la voglia di investire su un'informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare. Il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da Alberto Matano. Siamo amici. Ci siamo incontrati, per puro caso, sul volo di ritorno da Pantelleria. Abbiamo parlato molto e devo dire che mi ha dato anche delle preziose dritte professionali su una fascia oraria che padroneggia con maestria. La tv, che che se ne dica, non è albergata soltanto da squali e mostri.